ciao allora che queste qua sono quelle importate della giochi preziosi vi linko al primo al primo video di spacchettamento vedete giochi preziosi avevo visto alcune aperture appunto dicevano la data di scadenza ma non si capiva non dicevano perché è per il come si chiama è per il tatuaggio dentro infatti statene ferma ecco vi mostrato spero non sia un doppione cos'è beauty sleep nel terzo c'è lo sticker ciao carino ok qua tolgo così ok non neanche adesso li tolgo tutti e poi li apro mano a mano qui è un po' giro con un po' troppa facilità ma porca miseria anche qua vabbè è facilmente rimettibile non è un problema qui c'è anche la cordina ah sì queste qua le ho trovate al reggina un negozio reggina a 21 euro e 90 è l'unico posto dove lo trovate perché come vi ho già detto al toy center 25 euro tutte andate bene fantastico allora adesso prima di sparacchiare fuori tutto vediamo qui c'è non si capisce fermo ok è una di quelle dello slip club oddio non mi ricordo però fatto così questo l'accessorio ma non sono le scarpe forse ho capito chi è aspettate così il vestitino ah si che carino ok adesso giriamolo un attimo e adesso però volerà volerà dall'altra parte come altre volte uno due aspettate sono scomodissima allora la tengo qua off camera che forse evviva dicevo che forse non volerà fuori dal tavolo però che scatole perché vabbè allora qui c'è la checklist che però abbiamo già visto ma che è erano dentro la fantastica ok adesso vado a recuperare qui c'è l'altra metà qui c'è il ma la maniglia da mettere qui ok la lol oh che fa che fa la spaccata bene perché ma questa no forse fa la pipì no non fa la pipì forse forse è una di quelle che cambia colore anche aspettate che controllo allora è sleeping bb infatti potrebbe cambiare colore bene vabbè ve lo farò vedere sempre nel video nel video collettivo quello quello diciamo che farò oddio è adorabile certo però che effettivamente 21 euro e 90 è un po' tanto devo cercare un altro un sito dove le vendano a meno perché sì aspettate che guardo una cosa però perché allora questa può o cambiare colore o piangere ma mi sa che forse piange però perché sì esce fuori un po' d'aria forse piange vabbè comunque è adorabile è bellissima sì 21 euro e 90 decisamente no è un bel no che poi tra l'altro cioè cioè non ci sta che bello non ci sta neanche su yeee vabbè ehm comunque così dopo aprirò anche l'altra perché sì ne ho prese due sì sì sono pazza vabbè ehm ehm ah giusto che scema quasi mi dimenticavo anche questa mi ero dimenticata di questa cosa qua da metterle qua in testa o anche qui no in testa perché sulla foto qui ce l'ha vedete qui così che carina ehm ok mettiamola qui così ok allora alla prossima ciao ciao